La comunità islamica di Venezia è venuta a darti il benvenuto. Chi ha chiuso Moschea? Americani? Americani? No, no. Sionisti. No, no, per carità. Chi ha chiuso Moschea? Una donna. Io da qui non me ne vado, cara. E l'ha trasformata in un negozio parrucchiere. Un negozio unisegis? Uomini e donne insieme. Non ne ho mai visto. Che possiamo fare? Portiamo tanti sassi per tutti. Una lapidazione. Ma fantastico. Aspetta, aspetta, no. Oddio, no, no. Adesso dobbiamo diventare tutti più leggeri. Mangio un datere al giorno e basta. Dobbiamo punirla, cancellarla per sempre dalla faccia della terra. Lo capisci o no? Fatela un staffa. Ho capito cosa dobbiamo fare. Sì, sicuro. Ho stregato anche te. Vogliamo sapere come stanno gli ostaggi? Non faccia sciocchezze! Mamma, arrivo! Mamma, arrivo! Grazie a tutti.